E nuove tecnologie sono state testate negli ultimi giorni, tecnologie di guerra. La Russia accelera sulla missilistica e anche la Turchia si attrezza con un binario supersonico per testare le armi. Roberto Anselmi. Può trasportare testate nucleari, non è intercettabile perché viaggia a 20 volte la velocità del suono ed è in grado di cambiare quota o virare con agilità. Può colpire con un raggio d'azione dichiarato di 10.000 km. E' l'Avanguard, nuova arma strategica russa. Dopo essere lanciato da un razzo, il missile plana come un aliante tra i diversi strati dell'atmosfera, resistendo la temperatura di 2.000 gradi prodotta dall'attrito con l'aria. Il razzo di prova, partito dalla base di Damborovski nei Urali Meridionali, ha raggiunto il poligono di Kure in Kamchatka 6.000 km a oriente. Potrebbe essere operativo già l'anno prossimo. E intanto in Turchia si è concluso il...